Buonasera, benvenuti. Diamo inizio al Consiglio Comunale. Lascio la parola al segretario per l'appello. A lei la parola, prego. Focaccia Laura, Russo Francesco, Mascia Maria Sole, Nicolossi Davide, Alevi Elena, Friggiero Mattia, Biella Cristina, Cagliani Alessandro. Grazie, dichiaro la seduta aperta. Procediamo con la nomina degli scrutatori, ci sono dei volontari? Consigliere Fumagalli, Consigliere Bernareggi, Consigliere Allevi, grazie. Procediamo con il punto numero uno all'ordine del giorno, approvazione verbale della seduta del Consiglio Comunale del 27 aprile 2017. Ci sono Consigliere che desiderano intervenire? rinnovo il mio invito. Se nessun consigliere desidera intervenire, procediamo con la votazione. Dichiaro aperta la votazione del punto uno all'ordine del giorno, approvazione verbale della seduta del Consiglio Comunale del 27 aprile 2017. Voti favorevoli? Unanimità. Grazie. Procediamo con il punto due all'ordine del giorno, approvazione del bilancio consuntivo dell'azienda speciale Farmacia Comunale e Vimercatesi, anno 2016. Lascio la parola all'assessore Grossi per la relazione. Grazie. Rumore? Così va bene? Si sente? Sì. Grazie. Si tratta di approvare la proposta di bilancio presentata dal nuovo Consiglio di Amministrazione delle Farmacie che si è insediato a novembre dell'anno scorso e che propone un bilancio con un risultato netto d'esercizio da approvare e poi da approvare la proposta di ripartizione che fanno di 148.160 euro, leggermente più alto dei 127.017 euro dell'anno precedente. Il risultato è stato ottenuto come differenza tra ricavi e costi sostanzialmente identica a quella dell'anno prima. I ricavi delle farmacie sono cresciuti di soli 60.000 euro, 70.000 euro circa, 2.732.000 contro 2.666.000, ma poiché l'incidenza dei costi, in particolare delle materie prime, cioè dei farmaci, degli venduti, è sostanzialmente costante, il margine è sempre quello, intorno al 35%, in costanza di fatturato si può avere una costanza di risultato finale, perché i costi fissi, il personale e gli oneri di gestione non sono mutati nel corso del tempo, leggermente calato il costo del personale in realtà di 20.000 euro, 25.000 euro. Quindi 2.732.000 di totale valore della produzione, il fatturato, i ricavi corretti e precisi senza gli altri componenti di gestione sono in realtà 2.701.000 euro e con costi esterni di 2.046.000, costo del lavoro 404.000, ammortamenti e accantonamenti per 70.000 euro circa e un reddito operativo prima delle proventi oneri finanziari di 210.000 euro. Le imposte sono state sul reddito anteimposte di 216.951 euro pari a 68.791. Il bilancio è stato anche redato in forma completa e non abbreviata ex 2.435 bis del Codice Civile, nonostante ci fossero le possibilità di farlo, come è sempre stato fatto, per offrire una maggiore quantità di dettagli al Consiglio e ai terzi che sono interessati, quindi a tutta la cittadinanza, interessati a vedere eventualmente i dettagli di bilancio delle farmacie. Il risultato è anche, dal punto di vista economico è questo, dal punto di vista patrimoniale le farmacie hanno un totale di attivo di bilancio, quasi pare al fatturato, come è normale che sia in questi mondi, in circa 2.420.000 euro, di cui 1.400.000 immobilizzazioni e il resto rimanenze, crediti e liquidità. Liquidità che ammonta 488.993 euro. In realtà la liquidità è anche più alta perché ci sono titoli per 115.000 euro che sono una gestione patrimoniale monetaria che di fatto può essere trasformata in liquidità in 24 o 48 ore e che non ha neanche grandi rischi di perdita perché è una gestione sostanzialmente priva di rischio. Quindi la liquidità esistente oggi nelle farmacie è superiore e intorno ai 600.000 euro. Dal punto di vista quindi delle passività, il patrimonio netto, debiti finanziari possiamo dire che non ce ne sono e nello stesso tempo a parte debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio per 153.000 euro e debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo che è la quota a breve termine dei mutui 55.586 euro. Il patrimonio netto rimane incrementato solo della quota di utile che verrà lasciato ed è un patrimonio netto che ammonta in totale a 1.290.000 euro. Il riparto dell'utile che è l'ultima cosa su cui il Consiglio deve deliberare, il riparto dell'utile proposto è dei 148.159,62 euro, è zero alla riserva obbligato alla riserva legale in quanto ha già superato il 20% previsto dal 2430 del codice civile quindi è inutile farne ulteriori accantonamenti. Sulla base dello statuto approvato, articolo 58 a febbraio di quest'anno dal Consiglio sono accantonati il 2% al fondo rinnovo impianti di quell'utile quindi 2.963 euro e poi accantonato il 5% al fondo di finanziamento dello sviluppo investimenti che ammontano a 7.407 euro. Tutto il resto quindi 137.788,45 è a disposizione del socio unico e il Consiglio delle farmacie propone di acquisirlo al bilancio dell'ente come dividendo da ricevere. Questo è direi la sostanza del bilancio che il Consiglio deve approvare. Grazie. Grazie Assessore Grossi. Mi chiedo aperta la discussione. Mi chiedo ai consiglieri coloro desiderano ad iscriversi per parlare. rinnovo il mio invito invito ai capi gruppo coloro desiderano effettuare dichiarazioni di voto. Prego Consigliere Teoldi. si sente? Grazie Presidente. Allora apprezziamo che il bilancio sia stato redatto come ci ha spiegato il Presidente dell'azienda farmacie Meneghetti in commissione in forma ordinaria anziché sintetica per renderlo più chiaro e comprensibile. Apprezziamo che non sia stato accantonato nulla alla riserva legale perché ormai l'azienda è sufficientemente capitalizzata in rispetto anche a quanto stabilito dallo Statuto e dal Codice Civile. Come apprezziamo anche che grazie agli altri accantonamenti previsti dallo Statuto ci siano 137.000 euro a disposizione dell'amministrazione. Apprezziamo che l'anno 2016 si sia concluso con una valutazione positiva e che anche se il fatturato cresce poco ma cresca comunque di più rispetto alle aziende medie del mercato di Monza e Brianza. Sporgendo i nostri ringraziamenti al Presidente, a tutto il CDA e al nuovo revisore per il lavoro egregiamente svolto dichiariamo che il nostro voto sarà favorevole. Grazie, consigliere Tealdi. Ci sono altri? Prego, consigliere Mascia. Grazie, Presidente. Noi prendiamo atto con favore dell'utile importante di 137.788 euro che andrà nelle casse del Comune. Però è proprio questo utile che va a beneficio del Comune e della cittadinanza che rende a nostro avviso ancora più incomprensibile la volontà dell'amministrazione che peraltro è riportata come tale anche nella relazione sulla gestione di darsi come obiettivo il pareggio di bilancio. Si parla di implementazione di servizi sociosanitari nella relazione di cui però ancora oggi non c'è traccia di indicazione né è stato portato in approvazione almeno per il momento il programma triennale e sono già passati sei mesi del 2017, sono già trascorsi quindi ad oggi non è ancora chiaro quale sia il progetto, quale sia il percorso e quali siano i servizi, l'implementazione di servizi sociosanitari che saranno utilizzati a cui si ricorrerà col fine di arrivare al pareggio di bilancio. Per questo motivo il nostro voto sarà contrario e parlo anche a nome della coalizione e quindi della lista civica. Grazie consigliere Moscia. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego consigliere Cagliani. Sì Presidente buonasera a tutti grazie. Sulla scia di quanto detto dal capogruppo del Partito Democratico io mi ritrovo in quanto espresso e quindi voterò contro. Grazie consigliere Cagliani. Prego consigliere Biella. Grazie Presidente. Noi non possiamo che condividere quanto già espresso dalla consigliera Mascia le nostre motivazioni erano sostanzialmente identiche quindi non le ripeto e anche noi voteremo contro per gli stessi motivi. Grazie. Grazie consigliere Biella. Lascio la parola al signor Sindaco. Sì grazie Presidente. Prima di tutto volevo esprimere l'apprezzamento per il lavoro che ha fatto il Consiglio di Amministrazione, la Direttrice e anche il Revisore dei Conti. Io credo che il bilancio consuntivo sia la descrizione di un'azienda farmacie che è in buona salute. Questo credo che non sia difficile riconoscerlo. Che sta lavorando sul piano programma, che arriverà in Consiglio Comunale con i tempi tecnici per la sua redazione e quindi poi vedremo sia i contenuti e sia dal dibattito le volontà di approvarli, correggerli o meno. Faccio notare che l'azienda è comunque un'azienda che sta lavorando bene e questo non ovviamente solo per merito nostro, tant'è che rispetto all'andamento di mercato della provincia di Monza e Brianza, tutte e due le sedi, Farmacia di Ruginello e Farmacia Nord, registrano delle crescite del 4-6% rispetto a un andamento medio dell'area geografica Monza e Brianza dello 0%. Quindi direi che in questo momento la conduzione dell'azienda speciale Farmacie sta andando decisamente bene. Quindi io con questo confermo la mia volontà di votare favorevolmente al bilancio consuntivo e anche alla destinazione dell'utile. Grazie signor Sindaco. Dichiaro chiusa la fase di dibattimento. Procediamo con la votazione. Dichiaro aperta la votazione del punto 2 all'ordine del giorno. Approvazione del bilancio consuntivo dell'azienda speciale Farmacie Comunale Vimercatesi anno 2016. Chi si esprime con voto favorevole? Sono 11. Grazie. Chi si esprime con voto contrario? Sono 6 voti contrari. Grazie. Ripetiamo la votazione sul punto 2 all'ordine del giorno per l'immediata eseguibilità. Chi si esprime con voto favorevole? Sempre 11 voti. Chi si esprime con voto contrario? Sempre 6 voti. Grazie. Procediamo con il punto numero 3 all'ordine del giorno. Proposta di ridelimitazione fascia di rispetto pozzo pubblico ad uso potabile via Berset Vimercate. Lascio la parola al signor Sindaco per la relazione introduttiva. Sì, grazie Presidente. La proposta tratta la ridelimitazione della fascia di rispetto di un pozzo pubblico per acqua potabile per consumo umano che si trova in via Berset a Vimercate. Si tratta di una delibera che propone una relazione tecnica condotta da Brianzacque nella quale viene applicato una metodologia di calcolo che si rifà a dati di inquadramento geologico e geomorfologico, a una valutazione della struttura idrogeologica, aspetti idrochimici, analisi di come è definita l'opera e quindi attraverso queste metodologie elabora una fascia di rispetto con un criterio temporale di 60 giorni che è quanto prevede la normativa per questo tipo di installazioni. Qual è il significato? Di fatto la fascia di rispetto va a definire un'area nell'intorno del pozzo all'interno della quale si devono adoperare particolari cautele rispetto alle installazioni industriali o potenzialmente inquinanti. In assenza di studi di relazioni tecniche vige un criterio di cautela che si basa su un criterio prettamente geometrico e va a definire una circonferenza del diametro di 200 metri a 20% il pozzo. In realtà le aree che si vanno a delimitare sulla base di questi studi risentono dell'andamento delle falde e quindi tipicamente sono più estese nella zona nord del pozzo e sono meno estese nella zona sud proprio perché l'eventuale presenza di inquinanti che penetrano nel suolo nella zona nord per il movimento della falda sotterranea potrebbero raggiungere più facilmente il pozzo. Quindi di fatto si ha una ridelimitazione della fascia di rispetto. La motivazione per cui è stata chiesta questa valutazione e ridelimitazione per cui è stata promossa direttamente da Brianzacque è che attualmente, questa è una indicazione che è stata indicata dall'ufficio a valle della commissione territorio venuta ieri su specifica richiesta, attualmente il pozzo non risulta in esercizio, Brianzacque vuole riattivarne l'esercizio, all'interno dell'attuale fascia di rispetto calcolata con criterio geometrico c'è un'attività di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi da parte di ditta Carzaniga. Quello che ci lascia piuttosto tranquilli rispetto a questa ridefinizione è anche la presenza delle ultime analisi sulla presenza di inquinanti a livello del pozzo del 2013 e del 2014 che rilevano come l'acqua all'interno del pozzo, l'acqua che viene prelevata all'interno del pozzo sia assolutamente priva di inquinanti pericolosi. La competenza per questo tipo di delibere è del Consiglio Comunale perché l'elaborato andrà a far parte dei documenti di piano di governo del territorio quindi andrà a definire poi rispetto al piano delle regole la possibilità di insediamenti industriali o meno. Questa competenza è specificatamente del Consiglio Comunale. Grazie. Grazie signor Sindaco. Dichiaro aperta la fase di dibattimento. Ci sono consigliere che si scrivono a parlare. Rinnovo il mio invito. Procediamo con le dichiarazioni di voto. Se i signori capi gruppo bisogna effettuare le dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto dichiaro chiusa la fase di dibattimento al punto numero 3 all'ordine del giorno. Dichiaro aperta la votazione del punto numero 3 all'ordine del giorno. Proposta di ridelimitazione e fascia di rispetto al pozzo pubblico ad uso potabile via Bercevi-Mercate. Chi si esprime con voto favorevole? Unanimità. Grazie. Ripetiamo la votazione per l'immediata eseguibilità sempre relativa al punto numero 3 all'ordine del giorno. Chi si esprime con voto favorevole? Nuovamente unanimità. Grazie. Procediamo con il punto numero 4 all'ordine del giorno, proroga del mandato e delle funzioni delle consulte di quartiere del tavolo dei giovani. Lascio la parola al signor Sindaco per la relazione introduttiva. Grazie Presidente. Il regolamento che abbiamo degli strumenti partecipativi attualmente in vigore prevede che tutti gli organismi partecipativi restino in carica per un anno oltre la scadenza del mandato dell'amministrazione comunale e dentro tale termine debbono essere rinnovati, salva diversa disposizione che nelle competenze del Consiglio comunale. Questo è il motivo per cui stasera portiamo questa delibera. Questa amministrazione comunale è entrata in carica con le elezioni amministrative del giugno 2016. Nel corso del dicembre 2016 abbiamo intrapreso un progetto di revisione dei regolamenti per il funzionamento delle consulte di quartiere e del tavolo dei giovani. ITER che ha coinvolto direttamente le consulte, che ha coinvolto altri gruppi di lavoro, che è stato condiviso nella sua maturazione con i capigruppo del Consiglio comunale affinché il nuovo regolamento potesse recepire tutte le indicazioni che possano emergere. La bozza del nuovo regolamento è stata già condivisa con i consiglieri, con i capigruppo di tutto il Consiglio comunale e nostra intenzione è portarla in approvazione nel prossimo Consiglio comunale. Questo non consentirà di fatto di andare a celebrare le elezioni delle nuove consulte di quartiere entro il termine della scadenza. Per questo motivo la delibera che viene proposta è quella di estendere, prorogare il mandato e le funzioni delle consulte di quartiere e del tavolo dei giovani in modo da procedere al loro rinnovo secondo quanto previsto dai nuovi regolamenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Ovviamente l'obiettivo è quello di procedere al rinnovo nei primi giorni dell'autunno di quest'anno. Per cautela con questa delibera chiediamo al Consiglio comunale di prevedere quindi la prologa delle attuali consulte al 31 dicembre 2017. Grazie signor Sindaco. Dichiaro aperta la fase di dibattimento relativa al punto numero 4 del giorno. Ci sono interventi? Prego Consigliere Mauri. Grazie Presidente. È un'aggiunta a quello che ha già detto il Senato Sardini. Le consulte comunali sono organismi attraverso i quali viene garantita la partecipazione dei cittadini alla vita politica della comunità. Esse rappresentano un valido anello di congiunzione tra l'amministrazione comunale e l'intera collettività che attraverso di esse diventa parte attiva nell'analisi e nello sviluppo di tematiche di interesse generale. I cittadini coinvolti contribuiscono alla fase progettuale dell'amministrazione comunale traendo in cambio occasioni di confronto e di formazione politico e sociale che sono le basi per costruire una comunità democratica e consapevole. Compito primario delle consulte di quartiere è quindi di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini all'amministrazione della cosa pubblica. A tal fine si preoccupano di organizzare o dare impulso a momenti di incontro e di aggregazione che abbiano come scopo prioritario la costituzione di un tessuto di conoscenze, di relazioni e di comunicazione tra i cittadini. Per attuare alle finalità esposte si è pensato fosse utile attuare un percorso condiviso con più interlocutori per arrivare alla stesura del corpo del regolamento affinché lo stesso potesse contenere non solo la visione politica della nuova amministrazione ma anche il pensiero e le riflessioni di chi conosce la realtà pratica di queste situazioni. Dunque attraverso una serie di incontri abbiamo cercato di raccogliere il sentimento dei Presidenti di consulta e di tradurre la loro esperienza nella proposta di stesura. È stato un lavoro faticoso e vorremmo pertanto ringraziarli in questa sede ufficialmente per il loro tempo, per la loro esperienza e per la loro pazienza. Durante la serie di incontri con i rappresentanti in carica abbiamo condiviso le bozze di lavoro anche con i capgruppo come base di lavoro per arrivare a definire la stesura definitiva del regolamento. La discussione della stesura definitiva, come ci ha spiegato il Senaco Sardini, è posticipata alle prossime sedute consigliari e durante questo lasso di tempo tutti i consiglieri potranno non farci pervenire nuovamente osservazioni e valutazioni in merito. Ho concluso. Grazie consigliere Mauri. Ci sono altri interventi? Rinnovo il mio invito. Se non ci sono altri interventi procediamo. Procediamo con la dichiarazione di voto. Se ci sono capi gruppo che ziderano effettuare dichiarazioni di voto prego di iscriversi per parlare. Prego consigliere Mascio. Sì grazie presidente. Prima una brevissima premessa rispetto al tema delle consulte. La nostra esperienza negli ultimi anni ci ha portato a ritenere che la consulta come strumento di partecipazione sia un modello che vada quantomeno ripensato se non addirittura superato in favore di forme di partecipazione che favoriscono un incontro diretto tra cittadini e amministrazione e la presenza dell'amministrazione non soltanto all'interno del palazzo ma su tutto il territorio. Questo è quello che è emerso anche in un episodio specifico quando un paio di componenti della consulta hanno rassegnato le dimissioni con una lettera di accompagnamento in cui spiegavano che si dimettevano proprio perché ritenevano che non ci fosse filtro tra i cittadini e l'amministrazione che quindi il loro ruolo fosse di fatto superato da un rapporto diretto dell'amministrazione con la cittadinanza. Questo peraltro era stato anche il nostro impegno nel programma di mandato, nonché il senso di esperienze che noi riteniamo positive anche se so che questo non è condiviso dai consiglieri del Movimento 5 Stelle come comune aperto. Prendiamo tuttavia atto della assolutamente legittima volontà dell'amministrazione di rilanciare e se ben comprendo da quello che so anche se poi non ho visto la versione definitiva del regolamento se c'è però anche di aumentare il numero delle consulte. Però appunto questo non è in realtà il tema della serata, si propone oggi di prorogare le funzioni in attesa che venga approvato il nuovo regolamento. Noi riteniamo che ad oggi un regolamento ci sia, sia vigente e disciplini la modalità di elezione delle consulte, è valido ed è in vigore. Le consulte peraltro rimangono in carica un anno da quando scade l'amministrazione proprio per consentire alla nuova amministrazione insediata di adottare tutte le misure e le iniziative che ritiene necessario. Ora se questo non è stato fatto in tempo, in un anno, io credo che sia giusto che si proceda all'elezione delle consulte secondo il regolamento vigente e non derogando allo stesso. Peraltro mi risulta anche qui che quantomeno alcuni dei componenti delle consulte non siano stati, scusatemi il giochetto di parole, ma è rilevante, non siano stati consultati e quindi il nostro voto sarà contrario. Grazie. Grazie consigliere Mascia. Solo una precisazione di merito, ricordo che al termine della conferenza che vi gruppo come d'accordo l'ufficio di segreteria ha inviato a tutti i capi gruppo la bozza di regolamento, quindi non so se... Ah ok, insomma, va bene. Ci sono... Prego consigliere Teoldi. Grazie Presidente. Allora, noi consiglieri siamo in possesso da mesi della proposta di modifica regolamento del consulte inviataci dal Presidente del Consiglio in diverse bozze. Sul documento tutti i gruppi consigliari hanno potuto fare le proprie valutazioni e osservazioni. Siccome è un tema comunque da valutare con i dovuti tempi per esaminare attentamente il lavoro che è stato fatto sulla rivisitazione del regolamento che ha coinvolto i cittadini e le consulte, rivisitazione che avrà anche un impatto sulle elezioni, chiedere di andare a prorogare le consulte fino al rinnovo delle stesse come prevede il regolamento e comunque non oltre il 31-12 ci sembra condivisibile. Ha maggior ragione che il nuovo regolamento sarà portato molto probabilmente in discussione per l'approvazione nel prossimo Consiglio di giugno, come abbiamo anticipato nella conferenza dei capi gruppo, così da rendere possibili le elezioni delle nuove consulte all'inizio dell'autunno. Il nostro voto è favorevole. Grazie consigliere Teoldi. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego consigliere Cagliano. Sì grazie Presidente. Sappiamo che da mesi che abbiamo la bozza di regolamento non serve ripetercelo. Io su questo tema mi asterrò. Non ho motivi di non lasciare ancora un po' di tempo al ritardo accumulato dall'amministrazione alla rivisitazione del regolamento, anche perché la calendarizzazione non dipende dai consigli di opposizione ma dipende dall'amministrazione, quindi da voi. Quindi, come dire, sottolineare che ce l'abbiamo da mesi, lo so. Quindi? Siete voi che calendarizzate le proposte dell'ordine del giorno, mica io? Però mi astengo. Grazie consigliere Cagliani. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego consigliere Fungere. Sì, per sottolineare quanto detto sia dal consigliere Amascia che dal consigliere Cagliani, nel senso che siamo bene a conoscenza che la revisione del regolamento è in atto da tempo, abbiamo ricevuto anche copia, dovrà passare comunque da una conferenza capigruppo, però siamo contrari alla proroga delle elezioni. Non si discute il fatto che stesse girando meno la bozza di regolamento. Grazie. Per questo voteremo contro. Grazie consigliere Frigerio. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se nessun capigruppo desidera più effettuare dichiarazioni di voto, procediamo. Lascio la parola al signor Sindaco. Sì, grazie Presidente. Allora, noi abbiamo ritenuto che questa proposta di delibera fosse tecnicamente necessaria. Avremmo anche potuto procedere con le elezioni delle consulte a scadenza, poi andare a sistemare il regolamento e poi quindi decidere di disfare e rifare le consulte, con ovviamente costi doppi e un po' di problemi. Avremmo anche potuto decidere di dare meno tempo per questo processo, che invece abbiamo snodato con tutti coloro che hanno voluto partecipare, in particolare una prima fase proprio con coloro che ancora resistevano all'interno delle consulte e una seconda fase poi, come è stato giustamente ricordando, distribuendo le varie bozze di lavorazione del regolamento con i gruppi che hanno voluto contribuire. E adesso abbiamo una proposta pronta da portare nel Consiglio di giugno. Questo perché abbiamo ritenuto che non fosse corretto andare a discuterla e a vederla nella Capigruppo del 20 di maggio e votarla stasera, proprio perché vogliamo lasciare ulteriore tempo. È probabilmente una nostra volontà quella di lasciare un tempo così lungo. Praticamente avremo una proroga delle attuali consulte per tre mesi, quattro mesi, ci immaginiamo. Questo secondo noi è il modo, in questo momento, più corretto, stante la situazione, per poter dare voce e modo di costruire un regolamento dove tutti possano aver detto e valutato bene la propria intenzione. Nel mio voto sarà favorevole. Grazie, signor Sindaco. Dichiaro chiusa la fase di dibattimento del punto numero 4 dell'ordine del giorno. Procediamo con la votazione dello stesso. Dichiaro aperta la votazione del punto numero 4. Proroga del mandato e delle funzioni delle consulte di quartiere del tavolo dei giovani. Chi si esprime con voto favorevole? Sono 11. Chi si esprime con voto contrario? Ce ne sono 5. Chi si astiene? 1. Ripetiamo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi si esprime con voto favorevole? 11. Chi si esprime con voto contrario? 5. Chi si astiene? 1. Grazie. Procediamo con il punto numero 5 all'ordine del giorno. Ordine del giorno presentato dal capogruppo consigliare Maria Solemascia Sindaco Mattia Frigerio. Protocollo numero 14.675 del 28 aprile 2017. Avente ad oggetto messa in sicurezza di punti critici viabilistici. Lascio la parola al proponente, il consigliere Frigerio, per l'illustrazione. Sì, nel senso che non so se già anticipare, ieri in Commissione Territorio è stata rivista un attimo l'ordine del giorno al fine di convergere e soprattutto chiarire alcuni punti per cui si sarebbe giunti a un ordine del giorno abbastanza condiviso che ho riscritto. Per cui se mai posso passare a leggerlo. Faccio una piccola premessa se mai che va anche uguale. Come preferisce, l'illustrazione è libera. L'avevo già letto l'altra volta, mi dica Presidente se leggerlo è tutto o solo la parte finale in cui viene... È sua facoltà, come preferisce. Leggo ora l'impegno perché rimane invariato fino alle premesse in cui si chiedeva brevemente di mettere in sicurezza alcuni punti rilevati critici. Si sottolineava che comunque non risultavano gli unici, che c'era già un piano generale del traffico urbano che riportava altri punti individuati, che in alcuni casi si era già operato e si era già messo in sicurezza e in altri invece erano ancora in attesa di risoluzione. E poi del fatto che l'amministrazione attuale ha stanziato 25 mila euro per la redazione del piano di sostenibilità. Quindi ciò premesso, il Consiglio Comunale di Mercati impegna il Sindaco e l'amministrazione comunale a, preso atto delle sue esposte segnalazioni, attivarsi nel minor tempo possibile per adottare tutte le azioni necessarie per la messa in sicurezza dei punti sopra espressamenti citati, nonché di ulteriori punti di criticità riportati nel piano generale del traffico urbano o individuati differentemente previo tempestivo espletamente di un quadro conoscitivo formato dai seguenti dati. Rilievo profilometrico delle strade, dati sull'intensità del traffico, rilievi di incidentalità. Punto 2. Promuovere l'utilizzo dello sportello di spazio città e o canale telematico per raccogliere segnalazioni di punti critici di sicurezza stradare al fine di valutare e intervenire tempestivamente a risolvere potenziali situazioni di pericolo, prevenendo per quanto possibile gli esgradenti eventi incidentali. E da ultimo, punto 3, considerare l'aspetto di sicurezza stradale come prioritario nella redazione del piano della mobilità sostenibile. No, volevo soltanto dire che è un ordine del giorno che nasce dalla cittadinanza e che vuole sottolineare l'importanza del tema a livello generale, che deve essere monitorato costantemente. A livello generale, mi ricollego un attimo a quanto detto ieri in commissione, nel senso che non ha la pretesa di essere esaustivo nei punti espressamente citati, su quali si chiede ovviamente di porre comunque la massima attenzione, su quali c'è già stata una valutazione tecnica da parte degli uffici e della polizia locale che ci è stata illustrata ieri e che in linea di massimo ha confermato la ragionevolezza delle segnalazioni e la necessità di intervento più o meno sostanziale su tutti i punti. A qualcuno è stato riconosciuto il carattere di urgenza, ad altri meno, o perlomeno come riferito dall'amministrazione di sede di commissione, verranno messi a rete con gli ulteriori punti che già avevamo citato nell'ordine del giorno originale, al fine di definire delle priorità che considerano anche aspetti oggettivi, quali appunto l'intensità di traffico, rilievi di incidentalità, rilievo profilometrico e quindi anche lo stato del manto stradale. Ecco, su questa cosa condividiamo va bene l'approccio. Vorremmo al tempo stesso sottolineare alcune cose, nel senso ribadire appunto di non limitarsi comunque a criteri soggettivi che vanno appunto benissimo, ma che rimanga comunque ben salda la percezione della realtà, nel senso come dire che i modelli non sempre funzionano e non è detto che diano indicazioni migliori, per cui di tenere sempre la massima attenzione su quanto viene esposto dai cittadini o da chi per esso, che i tempi stretti, nel minor tempo possibile, tempestive, eccetera, siano quindi limitati per davvero a quelli che si definivano tempi tecnici necessari per la valutazione, l'elaborazione, l'azione atta alla risoluzione e che appunto il tema sicurezza, noi avevamo già presentato un'interpellanza sulla parte relativa alla scuola e oggi quest'ordine del giorno si focalizza sulle strade e che abbia ecopriorità su molti altri temi. Rispetto a quello che si diceva ieri, l'unico punto un po' critico è che alcuni differimenti di soluzioni, ad esempio al 2018, non risultano giustificati secondo noi rispetto a spese che noi riteniamo per quanto ci riguarda ecoprioritari. Quindi in ogni caso prendiamo attimo in maniera positiva dell'impegno e vigilando poi nel tempo ovviamente su tutto. Grazie dell'attenzione. Grazie consigliere Frigerio. Dichiaro aperta la fase di dibattimento sul punto numero 5 all'ordine del giorno. Ricordo i consiglieri che hanno la possibilità di intervenire una sola volta. Il tempo massimo dell'intervento è 10 minuti. non c'è controreplica, non c'è dichiarazione di voto. L'ultima parola aspetta il proponente, nel caso di specie il consigliere Frigerio. Dopo si procede alla votazione. Fatta la premessa di rito, se qualcuno si iscrive a parlare. Grazie. 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 Si è iscritta a parlare la consigliere Teoldi. Prego a lei la parola. Grazie presidente. Allora, la proposta di ordine del giorno sulla messa in sicurezza di alcuni punti viabilistici presentato dal consigliere Frigerio mi ricorda una delle prime azioni che portammo avanti nel 2011 come Movimento 5 Stelle. presentammo un dossier dal titolo Pezzi di Vimercate e Vimercate a pezzi all'allora Assessore ai Lavori Pubblici Guido Fumagalli contenente un elenco dettagliato di strade, marciapiedi, punti nevralgici e pericolosi che necessitavano, secondo i cittadini, di interventi urgenti. Lo stesso dossier fu consegnato alla stampa e fu organizzata una serata nell'auditorium della biblioteca molto apprezzata e partecipata dai cittadini. L'azione fece scalpore ma rimase purtroppo inascoltata dalla loro amministrazione tant'è che sulla quasi totalità delle criticità sollevate siamo sollecitati qui noi stasera a mettere mano a distanza di sei anni. Ora come allora la sicurezza viabilistica è un tema che ci sta molto a cuore. Per questa ragione, come indicato anche nelle premesse dell'ordine del giorno abbiamo previsto a bilancio per il 2017 25.000 euro ed è solo l'inizio per la redazione del PUMS. Faccio notare che le linee guide europee sul PUMS individuano già tra le priorità proprio il miglioramento delle condizioni di circolazione e l'innalzamento del livello di sicurezza stradale. Rassicuro quindi nuovamente il consigliere Frigerio che sarà senz'altro nostra premura tenere nella dovuta considerazione tutte le criticità segnalate e adoperarci per risolverle. Tant'è che, come gli è stato già anticipato nella conferenza dei capigruppo e anche in Commissione territorio, sulle criticità elencate abbiamo attivato da subito sia i lavori pubblici sia la polizia locale. Per quanto riguarda il punto 2 colgo l'occasione per suggerire al consigliere Frigerio e ai cittadini presenti in sala, in futuro, qualora ci fossero altre criticità viabilistiche o criticità di altro genere da segnalare, di testare l'app Municipium che consente di inviare segnalazioni geolocalizzate, comprensiva di una o più foto in maniera immediata e soprattutto di tenere tracciato il loro stato di risoluzione. Apprezzando comunque il contenuto propositivo dell'ordine del giorno e considerando che le tre richieste degli impegni siano da quanto emerso in Commissione territorio praticamente da ritenersi contemplate, il voto della maggioranza sarà a favore essendo un argomento, come ho già detto, prioritario per la sicurezza della città e dei cittadini. Grazie, Consigliere Teoldi. Ci sono altri consiglieri che si iscrivono a parlare? Prego, Consigliere Mascio. Sì, io volevo soltanto ricordare alla consigliera Teoldi che l'amministrazione comunale passata in dieci anni pregressi ha messo mano a tantissimi punti che forse non si ricordano forse fa finta di non ricordarsi perché magari le conviene così e mi dispiace poi dover rispondere alle polemiche su un ordine del giorno che doveva essere condiviso perché così era ieri anche se effettivamente ci potevo pensare perché è stata condotta da sindaco anziché dalla consigliera Teoldi il lavoro fatto insieme sull'ordine del giorno. Mi permetto solo di ricordare che l'ultimo degli interventi sulla viabilità è quello fatta dalla precedente amministrazione, quello di cui oggi ancora voi beneficiate spacciandolo per vostro, per esempio via Pellizzari, per cui che non si dica che l'amministrazione comunale precedente non ha messo mani sulle strade. Oggi ricordo alla consigliera Teoldi che è un impegno dell'amministrazione, che quindi noi vigileremo evidentemente che l'impegno oggi preso venga portato a termine nei dovuti modi, uno di questi mi viene da dire è già stato posticipato al 2018, quindi evidentemente le difficoltà quando si amministra le cominciate a vedere anche oggi, l'assessore Calloni ieri ci ha detto che uno degli interventi su via Pellizzari che era nel piano per il 2017 è stato posticipato, quindi le difficoltà ci sono e avrete modo di accorgervene. Tra l'altro i punti deboli nessuno ha mai negato perché si sa che si può sempre migliorare arrivano peraltro da segnalazioni dei cittadini che appena arrivate sono state recepite, quindi veramente le polemiche io direi di lasciarle da parte e solo in questo modo avrete anche il nostro voto favorevole. Grazie. Grazie consigliere Mascia. Ci sono altri consiglieri che desiderano intervenire? Lascio la parola al signor Sindaco. Sì, io ringrazio il consigliere Frigerio per essersi fatto tramite delle indicazioni ricevute dai cittadini, credo che insomma alla fine forse dovremo superare le paternità sui metri quadri di asfalto, in questo accolgo dovrebbe essere accesso, sì scusate forse sono io che sono troppo lontano. Ringrazio il consigliere Frigerio per aver accolto essersi fatto tramite delle segnalazioni fatte dai cittadini e esprimo il desiderio che si superino le contabilità sui metri quadri di asfalto rifatti da chi o per quale motivo. Nell'intervento del consigliere Teoldi leggo la sottolineatura del fatto che effettivamente il tema proposto dai cittadini sulle sicurezze stradali è un tema molto sentito e è più riprese da parte di più forze politiche e viene riportato in quest'Aula. Io volevo sottolineare, è già stato accennato, il metodo di lavoro che abbiamo adottato in Commissione territorio, quindi è abbastanza inusuale che un ordine del giorno venga portato in Commissione prima della sua discussione del Consiglio Comunale e si vada a fare una valutazione approfondita dei vari punti che sono stati indicati, per cui alcuni degli interventi già hanno percorso quella che è la situazione della programmazione di fatto di alcune delle criticità. Alcune di queste, le più semplici, sono già state di fatto inserite nella programmazione, quindi contiamo di risolverle a breve. Volevo confermare con questo l'attenzione dell'amministrazione comunale verso tutte le situazioni di criticità viabilistiche. I criteri per la costruzione di un quadro conoscitivo che sono stati citati, letti prima dal Consigliere Frigeri, ovvero il rilievo del profilo metrico delle strade, i dati sull'intensità del traffico, i rilievi di incidentalità, sono proprio la base per permetterci di ottenere un quadro analitico oggettivo e andare a inserire nella corretta priorità tutti i punti di criticità. Criticità che purtroppo, e qua va anche il mio pensiero, spesso si traduce in episodi più o meno gravi e passato recente purtroppo anche di tipo mortale. Con questo faccio appello e non solo a quei cittadini che segnalano le criticità, ma a tutti gli utenti delle nostre strade, perché l'elemento principale del pericolo è sempre più spesso la disattenzione e la velocità. Quindi è verissimo che la comunità deve provvedere all'installazione e l'adozione di tutti quegli accorgimenti che consentano di limitare la velocità, soprattutto nei punti di bassa visibilità, aumentare la segnaletica, aumentare la visibilità sugli incroci e quant'altro. Ma la parte fondamentale deve continuare a farla l'utente della strada. Quindi ecco io vorrei che oltre che la cultura della segnalazione che è sicuramente importante, la cultura dell'attenzione che vengano realizzati tutti quegli accorgimenti per aumentare la sicurezza della strada, cominciasse a crescere, so che è una speranza vana, ma in modo un po' più spontaneo di quanto non accada oggi, anche una cultura dell'utilizzo dei mezzi e delle strade come un oggetto da usare correttamente per evitare o quantomeno contenere rischi. Con questo una delle azioni su cui siamo assolutamente impegnati e speriamo dall'anno prossimo di poter esprimere ancora più efficacia è quello dell'impiego della Polizia Locale che anche in questo campo, oltre che farci da supporto per i rilievi dei dati di intensità del traffico, rilievi di incidentalità, ringrazio proprio per il supporto che dà quotidianamente sulle nostre strade. Grazie. Grazie signor Sindaco. Ci sono altri consiglieri che desiderano intervenire? Prego consigliere Cagliani. Sì, l'intervento, io, una cosa precedente, è possibile per la prossima settimana avere un microfono, nel senso che io sto usando quello di Cristina, che è anche una cosa che può avere uno sviluppo interessante, però per una questione di comodità, perché lì ce n'è uno in più, a meno che sia un invito mio a passare in maggioranza. Per cui, io qui non ho il microfono. Vabbè, ci facciamo carico, facciamo una segnalazione a livello tecnico, grazie. No, rilevo che l'intervento del Sindaco sia in continuità con quanto stabilito in conferenza dei capigruppo, in commissione, comunque ieri sera, quindi lo ringrazio per l'intervento che mi pare riporti al centro la questione della condivisione del punto di ordine del giorno senza inutili e stucchevoli rivangamenti. Grazie. Grazie, consigliere Cagliani. Ci sono altri consiglieri che desiderano intervenire? Grazie. 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 Rinnovo il mio invito. Se desiderate intervenire, fatelo ora. Nel momento in cui ho restituito la parola al consigliere Frigero, andiamo verso la votazione, quindi con la chiusura della fase di dibattimento. Non ci sono interventi? Allora restituisco la parola al consigliere Frigero per la relazione conclusiva. Lei ha la parola. Ringrazio per l'attenzione di tutti i consiglieri e dell'amministrazione. Sottolineo che la mia non voleva essere un'accusa verso nessuno, né di chi ha governato prima, né di chi sta governando adesso. Avevamo citato anche e dato atto che un'attenzione era stata posta anche in precedenza col piano generale del traffico urbano. Probabilmente ci saranno state delle difficoltà oggettive come ci sono adesso, per cui si è scelto di portare alcune cose appunto al 2018. È un tema che ha bisogno di continua attenzione e sviluppo e quindi probabilmente è difficile che soddisferà nel tempo sempre tutti. La speranza è quello che si potrà migliorare comunque sempre più. Quindi niente, ringrazio ancora per l'attenzione e per il voto che a quanto capito sarà favorevole. Grazie consigliere Frigerio. Dichiaro chiusa la fase di dibattimento relativa al punto numero 5 all'ordine del giorno. Dichiaro aperta contestualmente la votazione del punto numero 5 all'ordine del giorno. Ordine del giorno presentato dal capogruppo consigliare Maria Solemascia, sindaco Mattia Frigerio. Avente ad oggetto messa in sicurezza di punti critici viabilistici. Chi si esprime con voto favorevole? Unanimità. Grazie. Procediamo con il punto numero 6 all'ordine del giorno. Ordine del giorno presentato dai consiglieri del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. Avente ad oggetto chiarezza sulla collaborazione del Comune di Bimercate con Transparency International e compenso Assessore Grossi. Lascio la parola al consigliere Teoldi in quanto presentatrice. Prego. Grazie Presidente. Leggo la proposta di ordine del giorno. Premesso che il 16 maggio 2017 sul giornale di Bimercate è stato pubblicato un articolo dal titolo PD, Centrodestra e noi per Bimercate chiedono le dimissioni dell'esponente della giunta 5 Stelle. Stop dall'anticorruzione e grana stipendio. Le opposizioni vogliono la testa dell'assessore Grossi, dal giornale di Bimercate, che nel suddetto articolo veniva avanzata da parte dei tre consiglieri comunali di minoranza la richiesta di dimissioni dell'assessore Grossi sulla base di due elementi, virgolettato, lo stop dell'ANAC al suo tentativo di far affidare il servizio di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune a una società esterna di sua fiducia. E ancora, le dimissioni dal posto di lavoro di cui era dipendente con conseguente aggravio economico per il Comune che deve corrispondergli lo stipendio pieno, nonostante le rassicurazioni in senso contrario da parte del Sindaco Francesco Sartini, sempre tratto dall'articolo, che nell'articolo erano riportate dichiarazioni da parte dei consiglieri sui contenuti di atti pubblici, precisamente una delibera di giunta e pesanti accuse all'assessore Grossi, che destano una concreta legittima preoccupazione. Che nell'articolo il consigliere Mascia dichiarava, tra virgolette, questa volta ANAC, a cui spesso i 5 Stelle si appellano per fare, tra virgolette, pulizia, ha stoppato loro e in particolare un assessore che ha tentato di bypassare le norme per affidare un servizio con aggravio di costi per il Comune a un soggetto con cui, a quanto pare, visto che lo indica addirittura in delibera, intrattiene relazioni. La nostra speranza è che si tratti solo di inconsapevolezza e incapacità e non di qualcosa di più grave. Se a questa vicenda aggiungiamo anche quella del compenso, non possiamo far altro che chiedere all'assessore di dimettersi o al Sindaco di riprendersi le deleghe, chiuse virgolette. Che nell'articolo il consigliere Cagliani affermava, virgolettato, il Sindaco aveva annunciato e ribadito che solo lui e l'assessore Maurizio Bertinelli avrebbero percepito il compenso pieno di amministratori comunali, in quanto dimessisi dal precedente posto di lavoro. Scopriamo invece, ora che anche Grossi, nel luglio scorso, si è dimesso dalla società di cui è dipendente, percependo quindi anche il compenso pieno da assessore. Con un particolare non da poco però, perché la società, la Markup Consulting di Monza, da cui ha rassegnato le dimissioni, è di sua proprietà per il 97,5%, mentre è di proprietà della figlia per la parte rimanente. Quindi Grossi si dimette da se stesso per percepire il compenso pieno d'assessore. Tutto legittimo, ma suona molto di prese in giro nei confronti dei cittadini, soprattutto da parte di chi si fa paladino, insieme al movimento che rappresenta della trasparenza, chiuse virgolette. Che nell'articolo il consigliere Biella commentava, le dimissioni dell'assessore dovrebbero essere la logica conseguenza e il Sindaco dovrebbe spiegare perché, quanto da lui annunciato, non è poi stato rispettato, chiuse virgolette. Che nel comunicato stampa numero 059 barra 2017, del 17 maggio 2017, attacco delle opposizioni all'assessore Grossi, il Sindaco rispondeva confermando la volontà dell'amministrazione di attivare la collaborazione con Transparency International in difesa della legalità, che la vicenda richiede al più presto chiarimenti pubblici in Consiglio Comunale, sede opportuna per sviluppare il dibattito politico e riportare chiarezza, il Consiglio Comunale di Vimercate impegna il Sindaco e la Giunta a 1. fare chiarezza sull'argomento, ricostruendo formalmente gli accadimenti e i documenti ufficiali. 2. procedere con tutti i provvedimenti conseguenti e necessari a tutelare la legalità, il buon nome e l'onorabilità dell'ente e di chi ci lavora. Allora, ritengo che le affermazioni appena lette possono generare un vero e proprio allarme. Un cittadino che le legge e non ha la pazienza o la possibilità di andarsi a cercare i documenti per fare una valutazione più approfondita è portato a pensare che l'assessore Grossi agisca contro la legge, aggravando i costi in capo ai vimercatesi. Capite bene che è un'accusa gravissima. Siamo tutti consapevoli che se l'assessore Grossi avesse commesso anche solo la metà di ciò che è riportato nell'articolo non ci sarebbe stato neanche bisogno di chiederne le dimissioni. Pretendere i chiarimenti e appurare la verità per intraprendere le azioni conseguenti è una richiesta legittima, secondo noi, da portare in Consiglio Comunale. La maggioranza quindi chiede al Sindaco e soprattutto all'assessore Grossi di chiarire la vicenda stasera in Consiglio Comunale alla presenza dei consiglieri e dei cittadini. Riteniamo che l'amministrazione abbia il preciso dovere di spiegare alla città com'è la situazione del Comune. Chiedo al Presidente del Consiglio Comunale nel corso del dibattito se è possibile dare la parola all'assessore Grossi per fare la dovuta chiarezza su come si sono svolti realmente i fatti. Grazie, Consigliere Teoldi. Dichiaro aperta la fase di dibattimento relativa al punto numero 6 all'ordine del giorno. Prego, Consigliere Cagliani. Sì, Presidente. Io volevo chiedere un attimo la sospensione del Consiglio Comunale per una riunione di capigruppo per un'analisi regolamentare di ciò che sta ora iniziando come dibattimento come lei lo suole chiamare. Nel senso che l'articolo 18 del regolamento del Consiglio Comunale recita, visto l'indirizzo che viene dato con questa mozione alla Giunta, diciamo, che è procedere con tutti i provvedimenti conseguenti e necessario a tutelare la legalità, il buon nome e l'onorabilità dell'ente che ci lavora? Io leggo quanto dice il regolamento, cioè nell'ipotesi che la proposta contenuta nella mozione non sia sufficientemente chiara o nel caso che non siano definiti con sufficiente chiarezza l'impegno, i fini e gli obiettivi oppure non sia sufficientemente indirizzoabile il giudizio, i voti o i sentimenti comuni o ancora non sia con sufficiente chiarezza indirizzoato l'impegno a cui si intende richiamare la Giunta Comunale, il Presidente del Consiglio rimette la proposta di mozione medesima con lettera motivata. Se il proponente ritene di confermare il testo proposto, il Presidente iscrive la stessa all'ordine del giorno. Io innanzitutto chiedo, poi nei capogruppo affrontiamo il tema ma volevo che fosse noto anche a chi ci ascolta qual è il motivo per cui chiedo la sospensione, cioè il fatto di verificare se il Presidente ha fatto l'istruttoria di quanto è stato messo all'ordine del giorno. Ancorché io rilevo nell'articolo 20 che ha interpellanze consigliari, visto che il primo punto delle conclusioni della mozione o pseudo tale, dice fare chiarezza sull'argomento ricostruendo formalmente gli accadimenti e documenti ufficiali, io ora vedo nell'interpellanza questo tipo di prassi regolamentare, nel senso che l'interpellanza prevede questo da regolamento. Ogni consigliere da solo o d'intesa con altri può presentare interpellanze con le quali chiede al Sindaco di conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta sua o della giunta in merito a un determinato provvedimento assunto di un argomento o problema di competenza comunale o di interesse per la comunità bimarcatese. Quindi l'ordine del giorno, la mozione che a mio modo di vedere si muove fuori dal regolamento di fatto è l'unione di una interpellanza e quindi non è un ordine del giorno con poi una sconclusionata e ambigua azione di indirizzo diciamo, prolusione, frase che dà un indirizzo di cui non si capisce la portata. Quindi ricadiamo nella genericità di cui al precedente comma che ho letto. Per cui su questo chiedo un attimo la sospensione del Consiglio Comunale. Grazie. Sospensione accordata.